Sono innocente, ho rigiato tutte le cose fatte a me, ho fatto due anni di carcere senza aver commesso nessuno e altro, due anni terribili di torture fisiche e psicologiche, lontano dai miei familiari più cari, moglie, nipoti, nipote e figli, e confido in una sentenza giusta. E con questo video, in grazia, concludo.